l'iniziativa parlamentare con l'iniziativa di governo, perché noi siamo tifosi a sostegno di una riforma strutturale di questa vicenda, però per farmi capire, mi scuserete, sarò poco forbito, finché, chiamo in causa il mio amico Guido ma non per fare un riferimento personale, finché l'amministratore delegato dell'azienda, Atac, faccio un esempio che non è riferito a Atac, dell'azienda Pinco Pallo, non è libero di portare in tribunale perché non riceve i soldi dal contratto di servizio, il lente che lo ha nominato ci sarà sempre questo cortocircuito, in questa città sono stati cambiati sei amministratori delegati in due anni, questa la dice lunga su quanta volontà concreta di riorganizzare il settore ci sia e non ne faccio, lo so che, come dire, probabilmente non è politicamente corretto dirlo in una, in un consesso di una festa di un partito, ma lo dico con dolore, lo dico con dolore perché non è una questione di appartenenze, perché ogni volta che cambia una giunta regionale, non è che io vengo da una piccola regione qui a fianco, ha vinto pure una giunta regionale che mi piace, l'ho pure votata, ma è possibile che anziché unificare le tre aziende regionali con tanto di legge, la prima cosa che fa il Presidente della regione, amico mio, del PD, così non si offende nessuno, anziché fare operativamente l'aggregazione delle aziende che fa, nomina i nuovi Presidenti. Signori, se non siamo consapevoli di questo rischiamo di, come dire, rimanere fermi su un sistema che ai tagli lineari ha reagito semplicemente riducendo i servizi ma non cambiando strutturalmente nulla. Anche quello che diceva Nencini o il Senatore rispetto al rapporto dei lavoratori diretti, indiretti e quant'altro. Per fare una riforma industriale, lo diceva prima splendidamente Rocchi, c'è bisogno di uno strumento. Noi abbiamo fatto un accordo per istituire il fondo a valle della riforma, come si dice quella che porta sfiga lì, Fornero, però non è operativa e soprattutto, mi permetto di dire, noi se dobbiamo fare una riforma strutturale dobbiamo capire che dobbiamo gestire degli esuberi e se dobbiamo gestire degli esuberi dobbiamo avere gli strumenti per gestirli e quindi abbiamo bisogno probabilmente di capire come mettere un quid perché se aspettiamo che i lavoratori e aziende abbiano una sufficiente dotazione per gestire quel fondo, il trasporto pubblico locale è già sconocchiato. Grazie a Giovanni Luciano, adesso noi iniziamo un secondo giro sempre tenendo conto dei limiti di tempo e approfondiamo un po' qualche argomento di quelli che sono venuti all'evidenza. È acclarata la strategicità del trasporto pubblico locale e ricordato che leggevo qualche giorno fa che uno studio della Cassa Depositi e Prestiti afferma che investire nel trasporto pubblico locale porterebbe un valore aggiunto di circa 17 miliardi di euro e potrebbe produrre circa 400 mila nuovi posti di lavoro. Io affronterei adesso il tema della ristrutturazione appunto del trasporto del trasporto locale e il tema appunto della struttura delle aziende di esercizio di questo servizio. Io inizierei da Marco Filippi per poi proseguire. Penso che un po' tutti gli interventi oltre agli obiettivi e oltre ai propositi hanno evidenziato una necessità che gli obiettivi e i propositi auspicati possono essere raggiunti non dico solo nella misura ma anche nella misura si attiva un processo di trasformazione profonda delle aziende che è l'elemento che richiamava Tanzilli. Allora io credo che in primo luogo va rivendicato che anche il trasporto pubblico locale oltre a un valore sociale, ambientale, economico rilevante ha anche un valore industriale altrettanto significativo. In un momento di crisi come questa probabilmente investire, ora non so se i numeri che Davi e Alberto corrispondono effettivamente alla realtà o all'auspicio, ma indubbiamente investire nel rinnovo del parco rotabile oltre che rappresentare una necessità per ammodernare la flotta, indubbiamente è una di quelle misure anticicliche che indubbiamente fa bene al Paese, dal lavoro, dalla possibilità appunto di produrre ricchezza e ha un elemento positivo. Allora credo che il primo elemento che bisogna mettere al centro è anche quello del valore industriale del trasporto pubblico locale. La seconda questione è come facciamo a cambiare davvero le aziende, cosa non facile indubbiamente? L'ultimo intervento che mi ha preceduto poneva intanto e il penultimo ponevano due macigni da questo punto di vista, il piano delle risorse e il piano degli strumenti per affrontare in qualche modo anche elementi di esubero del personale che indubbiamente nessuno può pensare ovviamente di mettere per la strada. Allora io credo che però le aziende le riusciamo a cambiarle anche se cambiamo come dire anche una cultura, una cultura anche delle regole. Io penso che uno degli elementi centrali non può che non essere costituito anche dalla centralità delle gare con cui andiamo ad affidare i servizi. Lo dico perché fino ad oggi vivendolo anche in prima persona, nella precedente esperienza ero assessore, facevo lo stesso lavoro appunto di Improta in una città di medie dimensioni e la cosa caratteristica delle gare e delle aziende di trasporto era il livello di apprensione, l'elemento ansiogeno che in qualche modo veniva scandito nell'avvicinarsi all'elemento centrale della gara. Io credo che l'elemento invece della gara è un elemento di rimente, essenziale, un elemento da costruire, un elemento in qualche modo da mettere a parte rispetto alle paure dei più diretti interessati. Allora siccome in molti casi l'elemento della gara è l'elemento a cui guardano con apprensione i lavoratori, io credo che questo elemento debba essere assunto come un elemento centrale in termini anche di introduzione di clausole sociali, di clausole contrattuali, cioè l'elemento della gara deve essere un elemento effettivo di apertura al mercato, di effettivo cambiamento del management, di effettiva anche capacità e qui mi rivolgo in particolar modo all'amico Guido, anche di capacità di programmazione dei soggetti più direttamente coinvolti. Mi riferisco ovviamente a enti locali e a regioni perché la gara per quanto centrale e io ritengo che sia un elemento centrale è uno strumento. Allora perché questo strumento funzioni al meglio è chiaro che deve essere preceduto anche da un livello di pianificazione, di programmazione degli elementi essenziali del trasporto pubblico fondamentali. Un primo elemento di pianificazione e programmazione lo introduceva il Vice Ministro. Noi dobbiamo definire in quali ambiti ottimali è più opportuno svolgere un servizio di trasporto pubblico locale. Elemento non banale perché se dal punto di vista del trasporto pubblico su rotaia l'ambito regionale direi che può essere dato in qualche modo per assunto, io non credo che sia traslabile in automatico per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma e dove probabilmente l'elemento dell'ambito ottimale, omogeneo deve sposarsi con diverse caratteristiche. Una di queste indubbiamente è la densità degli abitanti che indubbiamente costituisce un fattore essenziale dal punto di vista dell'economicità del servizio. L'altro ovviamente è quello del bacino di utenza, l'omogeneità. Vi sono comuni che hanno caratteristiche prevalentemente strutturate sull'estraurbano e quindi la capacità di dare un elemento effettivo della continuità territoriale, altri ovviamente che hanno una dimensione più prettamente urbana. Ma le cose non vanno in automatico se si pensa di mantenerle in capo in qualche modo alle volontà delle aziende che tendono inevitabilmente a riprodursi nella loro condizione. Ecco perché io credo che le regioni per un verso e i comuni devono in qualche modo sporcarsi di più le mani nell'elemento della programmazione della mobilità. Sporcarsi le mani perché io credo di essere consapevole, ma credo che sia una consapevolezza diffusa almeno fra di noi, che la mobilità è una di quelle robe dove sostanzialmente non è che si costruisce il consenso, più spesso si perde. Però io credo che sia un elemento indispensabile da rimettere al centro indipendentemente dall'impatto che il valore economico intrinseco produce nella valutazione, perché è un elemento ordinatore, non è soltanto per gli ambiti ottimali, ma anche nell'ambito della mobilità urbana è un elemento di programmazione e di pianificazione. Primario, c'è chi sostiene, fiordurbanisti, che la principale azione di pianificazione urbanistica è proprio da come si rilegge, si rinterpreta e si riscrive i percorsi della mobilità. È il primo elemento da cui dovrebbe partire la rilettura di una città e da cui indubbiamente ritracciare anche gli assetti urbani. Allora io non so se a Roma, nelle medie e grandi città, si verifica quello che si verifica purtroppo nelle piccole e medie, dove per esperienza diretta avverto che le linee di mobilità, le linee di trasporto, i servizi, spesso sono identici a 20-30 anni fa e quando invece da 20-30 anni non è che è cambiato il mondo, ma sono cambiati l'espansione urbanistica, è cambiato anche la dinamica della mobilità delle singole persone. Allora io credo che un primo sforzo, la prima capacità in qualche modo per affinare intanto suoni perché vedete io non sono preoccupato delle iniziative parlamentari che abbiamo assunto con Michele più o meno separatamente che più o meno convergano e non sono preoccupato anche perché sostanzialmente non è soltanto il livello di intesa e di sintonia che stiamo dimostrando ma che ovviamente dopo e scontato, ma è la capacità soprattutto da parte del governo, nella capacità in qualche modo di dare un quadro di necessità per tutti. Allora non è tanto il disegno di legge presentato ma è la capacità sul disegno di legge delega di aggregare le competenze, le titolarità perché questo si rappresenti e costituisca uno stato di necessità effettivo per il Paese. Di questo io confido ovviamente nel lavoro che il Ministero sta sviluppando anche su altri settori nella capacità in qualche modo, ora concertazione è passato di moda, ma guardate riscopriamolo, c'è la necessità di trovare elementi sintonici a livello istituzionale perché non è che si possa andare, dalle mie parti si dice, in paradiso a dispetto dei santi, bisogna trovare la maniera perché al di là delle risorse in qualche modo il livello di trasformazione delle aziende sia un pochino più lontano da chi le gestisce e da chi purtroppo le utilizza e molto più vicino in qualche modo a chi invece ci mette le risorse effettive per cercare in qualche modo di indurne le trasformazioni. L'ultimo elemento di pianificazione secondo me indispensabile per cambiare le aziende è rappresentato da una parola che da tempo si individua come la parola magica, la parola chiave ma purtroppo poco spesso frequentata, anche questa la diceva il Ministro e mi ha fatto molto piacere, è l'elemento dell'integrazione l'elemento dell'integrazione modale, l'elemento io aggiungo Riccardo dell'integrazione tariffaria che è l'elemento che maggiormente stimola anche nello scambio modale la facilità di lasciare un mezzo per riprenderne un altro, i memorari, quell'elemento in qualche modo che la pianificazione consente sostanzialmente di trovare un unico servizio nell'articolazione dei vari mezzi modali e anche consentitemi l'integrazione societaria perché veniva ripreso dal rappresentante della Cisle guardate 1200, 1100, poco meno di 1000 ma l'elemento della frammentarietà che viviamo sul territorio in molti casi soprattutto sull'estrarbano, in molti casi proprio su soggetti privati è un elemento che ha poco a che fare con la dimensione industriale che in questo settore vogliamo raggiungere ecco questo elemento di programmazione, visto che ormai purtroppo negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto di non essere in automatico, anzi sono molto più forti le resistenze che gli elementi di incentivo io credo che un ragionamento serio sulle premialità e sulle penalità anche dal punto di vista delle risorse deve essere un elemento come dire di governo indiretto e ovviamente rinsisto e risottolineo nel passare la palla anche la volontà e la capacità di sporcarsi un po' le mani da chi in qualche modo tiene la titolarità di questa programmazione grazie